Questo geniale terzo anno 90 dalle nostre attività del corso ritmico di Venegone. Quindi non mi hai detto che non hai idea, non lo so, sta lento sarà tu, la cosa è che il polo è il mio corche. Dai un po' più che tuoi, soli vai non ti preoccupare, che il trago c'è tanto, la tappa la sai. Sì lo so, vedo una cabina che mi do la voglia, se devo vedere, lascio un po' che mi so che. Sì lo so, vedo una cabina che mi do la voglia, se devo vedere, che non vada mai. Allora, c'è un grido nostro amiero, mi chiede bene dove vai. Oh, non so se, e forse non è certo, non è certo, non è certo. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Stai attento a non giangare, posso leggere di qualcuno se lo vuoi. Dimi no, mi solito dico che, nel senso di servo a partire. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Oh, non so se, starò cercando lei, molto bene. Grazie a tutti